Lentini e droga, la Polizia di Stato denuncia un giovane che era in possesso di piante di marivana. Nell'ambito del quotidiano contrasto alla vendita e alla produzione del consumo di sostanze stupefacenti effettuato dagli uffici operativi della Polizia di Stato di Siracusa Provincia, nella giornata di ieri gli agenti del commissariato di Lentini hanno denunciato un giovane di 22 anni per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli investigatori del commissariato lentinese nel corso di un'operazione antidroga hanno effettuato a casa del 22enne una perquisizione domicilare che consentiva di rinvenire e sequestrare 5 piante di marivana, 21 grammi della stessa sostanza già in stato di ossicazione e delle lampade utilizzate nel processo di coltivazione della sostanza stupefacente.